Ma, ma Ronzi, ma cos'è sto armadio? Mamma mia, cos'è? Non lo sai? Allora, il barista adesso per un mese non ci sarà più e quindi Don Seba ha voluto un po' rimediare, diciamo, e ha messo questa macchinetta che dovrebbe distribuire ciuccetti. Però, insomma, dai, proviamola. Hai un euro o qualcosa? Sì, sì, ho un euro, un euro. No, ma perché non scende niente? Dai, sguarata, va. I soliti. I soliti che si dimenticano di rifornire le macchinette, mamma mia. Ehi, Silvia! No, cioè, Kiko, basta, io voglio ciuccetti, non ne posso più di stare senza ciuccetti, basta. Ascolta, ma sopra una macchina, tipo, non ce n'erano? Visto che tu sei la più alta, vai per piacere a vedere se ci sono sopra la macchina? Ascolta, è inutile che adesso che mi devo fare fatica me lo dici. Adesso prendi, vai tu lì in alto e li prendi, perché visto che sei tu la più alta, quanto pare. L'hai voluto te, Silvia. Ah, ma chiamina questa cosa. È tempo, va bene, d'accordo. Ascolta, da qua è un metodo. No, calma, 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 non serve che ritigliate. I ciuccetti li ho tolti io. Cosa? No, no, no. No, allora, perché li ho tolti io. No, no, allora, perché? E li ho tolti, adesso lo dico, li ho tolti perché è quaresima. Allora, per questo breve periodo, che sono 40 giorni prima della... Pasqua. Bene, allora faremo un po' di penitenza. Così questa macchina, invece di consegnare ciuccetti, consegnerà delle penitenze. Allora, Don Seb ha installato questa macchina che distribuisce penitenze. Vediamo un po' quale sarà la mia, eh. Chissà quale sarà. Magari devo... Devo raccogliere i gatti abbandonati di Montegrotto. Sì, dai, che così me ne porto uno a casa. Oppure... Oppure devo... Devo... Andare da... Dal fotografo a farmi un servizio fotografico. Per la parrocchia, ovviamente, eh. Certamente. Non per altro. Cosa? Prepara il sinodo? Allora... 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 Grazie.